Ecco Gianni, campione di corsa all'ultimo regalo per le feste. E lui è Marcel. Campione olimpico. Che di velocità se ne intende più di tutti. E aiuterà Gianni a far felici, anche quest'anno, i suoi nipoti. Scegli Team per i tuoi regali. Prendi due smartphone e ne paghi uno. Scopri il Samsung Galaxy più adatto a te. Corri nei negozi Team su Team.it. Team, la forza delle connessioni.